Continua l'avventura della crociera della musica napolitana per valorizzare e promuovere la parte positiva della nostra città. La quarta edizione si svolgerà dal 10 al 17 ottobre 2011 a bordo di MSC Splendida con un cast di eccezione che non mancherà di entusiasmare gli appassionati della vera canzone classica napoletana. Diventa anche tu un sostenitore della nostra iniziativa. Per la quarta edizione le tariffe saranno bloccate rispetto al 2010 per consentire a tutti di partecipare. Prenota più presto la tua cabina per usufruire di maggiori sconti e promozioni e ricorda le disponibilità sono limitate. La magia del mare incontra l'emozione della musica per un perfetto connubio all'insegna della vera artisticità napoletana. A fretta di prenota anche tu.